Piero è il tuo momento Allora ti racconto Ah come è nato facci vedere le tette In pratica Allora eravamo allo stadio Luigi Ferrari, Genova Marazzi Ma è andato con l'Andre? No, no, sai La gradinata? Eh lo so, lo so Il problema è che la gradinata nord è esaurita in un abbonamento In un abbonamento del Geno In un abbonamento In un abbonamento Erano a sud con un mio amico e mio cugino E io Dove è male? Come profiterò di Axel? 3 come profiterò Le palle del profiterò Perché Maroclazzetto è la parte stretta Io la famiglia più di stile Tite, se non la faccio Era la partita Genoa-Ravenna in Serie C Cioè 2 anni fa 3 anni fa Hai 5 minuti e 52 51 In poche parole Oh mi fa male qua Sei rossa infatti Chi è stato? Io No, è stato io No, è stato io Io forse Credo, è stato io Credo, è stato io Ma tu vieni sul tuo mio sorello Però Oh, vieni sul tuo mio sorello Però lì si è fatta la mia extra No, la mia sorella No, la mia sorella No, la mia sorella Ok, ok Ok Oh, dai, il tuo sorella Oh, dai, Piero, il tuo momento Cosa ho fatto? Stai mi raccontando delle delle parole Ah, per me Non mi fa che parole È passata una E che c'hanno due bocce? No, per me